e perché passa sotto i sassi ecco così adesso se volevo passare lo becchio ma ammazzo perché l'hai buttato no però si sta bene qua belli freschi no c'è lì tutta la roba da pulire tutto ma che l'hai sporcata tutta cioè se oggi ritrovo guarda ti mando il video di come era prima cioè ti rendi conto di dove cacchiarola noi roviniamo guarda qua cosa cazzo ha combinato guarda che cosa cazzo non fa prima che facessero il lavoro va bene la gomma nel meno però figaro ci hanno fatto veramente qua un disastro un disastro cazzo cioè anche da chi figaro comincia a diventare difficile sì ma il problema sai qual è marco che adesso fra un po' vedi comincia ad andare sotto basta dopo te lo adesso poi lì in mezzo te lo schiaccia sotto basta era la e io l'ho appoggiato al sasso qui è in piedi cos'è era il tombino appoggiato qua qua era dove era appoggiato qui al sasso ho spostato esatto e ha fatto franare il sasso figaro ragazzi se fosse venuto giù ho spostato esatto sasso sasso mi sembra di essere una gita dei boy scout più che scivola franano ah qua no però dal luigi si può fare ma qui a parte che no beh tiene e tiene il problema è che la lasci andare giù sui sassi dava giù in terra guarda anche questa guarda che lastra che hanno buttato via cioè veramente figaro ti ho fatto più fatica a fare questo a piedi che tutto il giro Marco vai avanti fino a avanti fino in cima che puliamo via il pezzo usciamo al lavaggio direttamente anche questo guarda questo qua questo lo vuoi portare via sei stancato è tutta salute una volta cazzo tu c'hai anche quella moto noi dobbiamo fare tutta la salita figaro ma su strac altro che fare le zone oh oh